Parliamo di Tecnica Viper Qualebron e vediamo se ci sono dei cambiamenti. Ho avuto modo di provare la Viper Tecnica Qualebron a parte del creptocinasco durante l'evento di Babola e poi nelle due settimane successive. C'è un piccolo cambiamento, ma non come abbiamo letto la gomma. La gomma resta una black eva molto rigida e non una multi eva come si è scritto tanto. Il vero cambiamento? Si abbassa leggermente il peso e si perde qualche punto di inerzia. Per esempio il test che ho ricevuto io è esattamente 362 grammi con un'inerzia che si abbassa di 5 punti su una soglia dei 160. Resta il suo grabonio 12k, resta la sua sabbiatura 3D spin, resta il Vibrasorb System 2 per lo smorzamento di vibrazioni. L'accerto è intercambiabile, ma come detto nell'anno scorso il bilanciamento non è in alto. È più un medio medio alto. Vanno dai 26 a 26.2 e 26.3. In campo resta una palla praticamente identica. Un telaio per giocatori avanzati. Come detto abbiamo qualche punto di inerzia meno, più maneggevolezza. Quindi leggermente la potenza gratuita si va ad abbassare, dobbiamo spingere un po' di più, ma questo grazie all'inerzia più bassa riusciamo a farlo facilmente. Resta un ottimo telaio nella bandeca e nella vibora veloce. Come detto per l'anno scorso, non è un fucile, non è un telaio potente, quindi nello smash alto ha bisogno di tanto braccio e tanto swing. Stessa cosa nella fase difensiva. Molto precisa, soprattutto per il giocatore di destra, ma pretende braccio e tanta tecnica. E la pala di Qualebron? Questo a noi non interessa, l'ha utilizzata all'inizio dell'anno scorso prima del problema fisico, per poi abbandonarla leggermente per utilizzare un setup diverso. Quello che a noi deve interessare, così come le altre pale dei giocatori, è avere una pala che asseconda le nostre caratteristiche.